Il futuro delle agenzie per il lavoro nel mondo che cambia. Questo è uno dei temi al centro della conferenza internazionale per il lavoro in Corsa Roma. Penso che l'obiettivo sia quello di fare un po' l'analisi della situazione, ma soprattutto guardare al futuro. Stanno cambiando tante cose in Italia, stanno cambiando le leggi, sta cambiando anche la situazione di mercato, per cui è molto interessante avere qui anche delle persone che vengono da tutto il mondo. Penso sia interessante capire cosa stanno facendo negli altri paesi per migliorare noi stessi.